Domani alle 16 ecco il Tiguglio come avversario della settimana per la futsal San Giovannese. È il penultimo impegno interno del campionato, serve però vincere per rimanere in corsa per i play-off in ambito nazionale. Il bomber Lino Pisconti, fuori a Pistoia, sarà in forze fino alle ultime ore. Ultimi sforzi, ora c'è una partita fondamentale sabato. Ora purtroppo c'è il problema che io mi sono rifatto male. Samuel è ancora squalificato per un'altra giornata, quindi diciamo davanti non ci sa punti di riferimento. Però questo non vuol dire nulla perché la prova di Pistoia ha fatto capire che siamo una squadra incredibile e che siamo tutti importanti e nessuno è fondamentale per questa squadra. Tiguglio, che avversario è? Tiguglio secondo me è un avversario da prendere un po' con le pinze. Loro si devono salvare, quindi verranno qui a fare la partita della morte. Vediamo, tutto sta a noi. Quindi portare rispetto per l'avversario, che sia l'ultimo, che sia il primo in classifica e poi far affidamento sui nostri punti di forza di quest'anno. Tanti pro io vedo il ginocchio, ma in campo ci rivediamo? Io spero per sabato di recuperare, io ce la sto mettendo tutta, come ce l'ho messa tutta quest'anno per rientrare in forma al 100%. Mi dispiace perché ero rientrato in un periodo che nell'ultime quattro partite avevo fatto quattro gol, quindi ero rientrato in forma. Però vediamo se riesco sabato a tornare in campo.